Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo Bitrate. Sono le 6 del mattino, sono reduce da una conferenza Microsoft che è finita ad un certo orario, della quale già abbiamo stilato un po' di informazioni che verranno trattate in un bitrate a parte, ma... Abbiamo la data di Final Fantasy VII Remake. Ora, sono ancora mezzo addormentato e quindi magari le informazioni nella mia testa devono filtrare. Cosa è successo? Stanotte c'è stata la Reunion Symphonic Orchestra di Final Fantasy VII, un concerto che al momento in cui fu annunciato ho detto, qui diranno qualcosa, è ovvio che avrebbero detto qualcosa al concerto, Square dice sempre cosa ai concerti. Stanotte c'è stato, alla fine hanno mostrato un trailer, Square si sta prendendo l'abitudine di rilasciare subito i trailer e di non farli più a porti chiuse, perché tanto vengono liccati e quindi li mostra direttamente. È stato mostrato un trailer dove hanno mostrato per la prima volta Heidegger, oltre ad alcuni mostri come Grant, Monodrive, la sezione in cui Claude entra nel treno e così via. Hanno mostrato nuove scene. Poi, alla fine del trailer c'era la data e a parte hanno rilasciato una key art di Sephiroth in fiamme. Cioè no Sephiroth in fiamme, Sephiroth con lo sfondo in fiamme. In più, hanno detto nel press release che questo era lo short trailer e stanotte ci sarà un trailer più lungo, un trailer che mostrerà più cose. Ma quello che ci interessa adesso è, abbiamo la data. Abbiamo la data di Final Fantasy VII Remake. Del primo episodio, della prima parte, ovvio. Ancora pensiamo che il gioco sia diviso in più parti. Su questo non c'è mai stata data né negazione né conferma, tranne una traduzione errata dal sito giapponese di Sony qualche mese fa. Quindi per cui, adesso aspettiamo, aspettiamo eventuali annunci di edizioni speciali, Limited Collection, Collector e così via. E aspettiamo il trailer di stasera. Come detto, se tutto va bene sarò in live e vediamo cosa si riesce a fare. Abbiamo la data di Final Fantasy VII Remake. 3 marzo 2020. Spread the knowledge. Direi tante cose, ma non sono nella condizione attuale per poter fare un'analisi recondita di quello che è successo. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo al prossimo Bitrate e alla live di stanotte.